...questo che mi preoccupa... ...vega, vega, vega che faccio strada. Prego, prego. Ciao, Sarti. E bene, questa c'è la sua seppia. E quello chi è? Ah, quello è l'avvocato Lopresti, facente funzione di pubblico ministero. E' una macchietta, eh. Viene dalla Trinacria. E' una strana, non arriva siciliana. E com'è un duro? Ma che duro è duro il gemolo? E' rotomane. Tra lui il cancelliere più i gemoli più si comprime per la vicinanza del pretore. Non si preoccupi. E chi si preoccupi? Lei non mi conosce, caro portacchiolo? Portalo, ancora da nascere il giudice che mi fa vissare a me. Audienza aperta.